Torna a distanza di cinque mesi il processo Rigopiano. L'ultima udienza preliminare ci fu l'11 dicembre scorso, mentre quella del 5 marzo venne rinviata a causa dell'emergenza Covid e di alcuni casi di positività all'interno dello stesso tribunale. Dunque venerdì alle ore 9.30 i familiari delle 29 vittime torneranno a chiedere a gran voce giustizia. Il gruppo Gianluca Sarandrea nei mesi scorsi era in procinto, a meno di novità importanti, di passare la parola alla pubblica accusa, composta dai pubblici ministeri Andrea Papalia e Anna Benigni. Novità che potrebbero derivare da richieste di rito alternativo, ma difficilmente questo potrà accadere domani. Sicuramente quello che ci si aspetta è la presentazione di consulenze tecniche riguardo l'origine della valanga, quindi la connessione con il terremoto della mattina e la prevedibilità dell'evento, visto che in quei giorni Meteomont segnalava il pericolo crescente di Slavine nella zona. Altre consulenze però potrebbero riguardare invece la gestione dell'emergenza e a presentarle dovrebbero essere i difensori dell'ex prefetto di Pescara Francesco Provolo e della dirigente perfettizia Ida De Cesare. Stando così le cose l'udienza sarà aggiornata in termini di tempo più lunghi, così da dare il giusto tempo alle parti interessate di esaminare testi e documenti. Dunque c'è attesa per domani perché dopo anni si potrebbe finalmente entrare nel vivo del processo.